buonasera a tutti e benvenuti alla 255esima serata di l'odi liberale che ormai da più di dieci anni ha abituato al consueto appuntamento del lunedì sera ormai settimanale da quasi quattro anni ormai perché crediamo che sia fondamentale cercare di veicolare conoscere diffondere e discutere il pensiero liberale in tutta la sua completezza in tutta la sua articolazione in tutti i suoi anche punti di divergenza perché crediamo che sia fondamentale riportarlo o comunque portarlo probabilmente è l'espressione più corretta al centro del dibattito accademico del dibattito politico del dibattito pubblico e perché crediamo che appunto questa sua ricchezza possa essere fondamentale anche per l'attualità fortunatamente abbiamo una tradizione in cui ogni appunto a settimana noi alterniamo classici del pensiero liberale 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 conservatore come questa sera il primo terzo lunedì del mese il secondo il quarto lunedì del mese presentiamo libri di contemporanei di carattere filosofico scientifico economico storico e quando il mese a cinque lunedì cerchiamo di concentrarci su figure di statisti liberali pochi nella storia che ci sono stati hanno fatto la storia toucher regal minghetti camur erard e avel e quant'altro li abbiamo già dedicato delle serate settimana scorsa ci siamo concentrati su uno statista vivente che suscita un po di speranze per usare un eufemismo che è milei e quindi insomma crediamo che sia importante cercare di alternare anche queste figure che cosa facciamo questa sera bellissimo libro uscito da poco di Raymond Aron curato dal professore Alessandro Campi e Giulio Diligio che ringraziamo Giulio Diligio professore ricercatore uno dei classici casi di cervelli in fuga all'estero nel senso che insegna e risiede a Parigi stabilmente ormai da tempo e quindi lo ringraziamo per essere con noi per la prima volta e per aver avuto quest'idea di raccogliere curare questa questo importante volume che poi cercheremo di andare a presentare brevemente con noi c'è anche per ci sarà in corsa nel senso che torna da Roma ma arriva e quindi si collegherà in corsa ci siamo sentiti prima e il professor panebianco ormai una presenza come dire pissa per quanto riguarda l'ordine liberale professore merito di scienza politica all'università di Bologna e per la prima volta con noi e lo ringraziamo Damiano Palano che insegna filosofia politica all'università cattolica del sacro cuore di Milano ci siamo già concentrati su Aron ovviamente perché è un pensatore liberale liberale conservatore fa autore probabilmente per essere più corretti del realismo liberale probabilmente perché ci siamo concentrati su un un classico qualche anno fa ovviamente qualunque persona non di sinistra che conosca l'opera di Aron l'opera più come dire più polemica più stimolante più divertente mettete da come voi avete è stato sicuramente l'opera degli intellettuali che abbiamo avuto la fortuna di avere tradotto in italia per tantissime edizioni tantissime case editrici dalla Cappelli all'Ideazione che è la prima edizione che avevo che avevo io all'ultima mi viene l'ultima case editrice insomma ripubblicato come dire qualche anno fa perché perché appunto l'opera degli intellettuali era è un caposaldo di un autore l'indau grazie Andrea Bittetto per i suggerimenti dalla regia esattamente Raimon Aron è un autore che ha avuto una produzione assolutamente sterminata ha scritto veramente migliaia e migliaia di pagine e il lettore italiano ha la fortuna di avere molto quasi tutto manca forse un volume di quelli fondamentali ma insomma davvero è possibile per chi poi durante questa serata volesse essere forse stimolato dall'approfondimento di questa di questo gigante del novecento a disposizione veramente molti molti testi ormai grazie anche alla tecnologia le trovi a disposizione anche sulle ebay amazon piuttosto che la disponibilità nelle classiche biblioteche questo perché perché evidentemente c'è stata una una ricezione nel nostro paese di queste idee portate avanti da veramente ormai decenni questo ne discutevamo brevemente prima dell'inizio della serata è una vera e propria chicca nel senso che come ci dirà poi Giulio De Ligio che magari sollecito già prima come mai gli è venuto in mente nel senso che questa è l'anteprima mondiale quindi è uscita addirittura prima in italiano che in francese sono una raccolta delle lezioni che ha ronte nel collège de france del 1973 e che in cui sostanzialmente riflette in una maniera assolutamente scientifica chiara proprio è un testo che per quanto affronti tema tematiche non particolarmente semplici è leggibilissimo ma come è la prosa di aron nel senso che si può tranquillamente avvicinarsi ovviamente presuppone conoscenze pregresse ovviamente erano di note ed indicazioni bibliografiche ma è un testo che può essere letto proprio come perché sono le trascrizioni di un vero e proprio corso universitario quindi è come se ci si ponesse si si mettesse nell'ottica dello studente che seduto ogni settimana perché una lezione a settimana ascolta questo grande pensatore riflettere sostanzialmente appunto su che cos'è l'azione politica ma soprattutto in qualche modo su un tema che purtroppo ai noi è diventato di attualità ormai da più di un anno quasi due cioè quello della guerra e quindi dell'azione guerresca e quindi della d'approccio in qualche modo a questa attività che è fisiologicamente oserei dire con un avverbio mi azzardo utilizzarlo con naturata all'azione umana per molti motivi che emergeranno durante la serata lo fa confrontandosi con maestri di questo tipo di riflessione su sulla guerra sul mondo della forza quindi clausevitz o clausevitz mao tetung su lenin e molti altri che nel corso del del libro riuscirete troverete come dire progressivamente quindi crediamo che sia un testo come spesso capita che purtroppo sia disponibile a fagiolo come si direbbe ed è un testo che come dire ce n'è ce n'è assolutamente bisogno io sono felice che ci siano qua tre persone che sono cultori studiosi e divulgatori di aron perché sia il professor pane bianco che il professor del igio del professor palano l'hanno curato volumi di e su raimon aron a testimonianza di una passione che dura da molti anni e per il professor pane bianco seppur questa affermazione la faccio in contumacia che dura da decenni questa passione nei confronti di aron infatti quando gli è stato chiesto era subito assolutamente entusiasta di tornare a discutere quindi stasera affrontiamo un pensatore che il magari sbaglio ma credo di no che il l'appassionato di di scienze sociali o l'appassionato medio del dibattito pubblico conosce poco e quindi credo che questa sera colberemo un piccolo gap di conoscenza per quelli che avranno la pazienza e la cortesia di seguirci come ormai si fanno fortunatamente tanti anche giovani quindi siamo contenti dei relatori di questa sera e cedo subito la parola a giulio del igio che a cui chiedo magari già subito di introduci del perché ci ha pensato giulio del igio ecco chiedo solo da meno parlano se magari si muta così a me ne evitiamo l'effetto ecco giulio del igio a te grazie grazie di questo aver provato importante la discussione di questo libro forse per rendere la discussione concreta introdurmi partirei dal fatto che non come forse caso di damiano palano non ho incontrato a ron nella mia educazione necessariamente perché cercavo un liberale perché cercavo un pensatore politico e un pensatore capace di chiarire la vita delle nazioni l'esperienza storica dell'uomo e quindi forse da lì che partirei per chiedermi per per introdurre forse la ragione che mi ha spinto a tornare quindici anni dopo dal tempo in cui ero studente a bologna domenica al professor pane bianco a proporre una riflessione di a ron al di là dei casi e degli accidenti personali forse chi ascolta e non conosce se non per per reputazione a ron reputazione positiva negativa a ragione si chiederà e dovrebbe chiedersi perché consultare a ron quando si vuole comprendere la storia politica e le decisioni umane e perché la teoria dell'azione politica e forse sarebbe come come abbiamo come lorenzo maggio appena detto è giusto dire che sia un po l'impressione a ragione a torto al contempo di trovarsi allo stesso tempo in una riflessione che riguarda l'eredità del novecento e l'attualità storica la più attuale questo concetto di attualità si è banalizzato nel suo a partire dal suo senso profondo che invece era chiaro lo spirito di a ron ma è giusto partire da là perché se 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 qualcosa unisce il novecento o i secoli storici i secoli della storia precedente il nostro tempo può darsi che si possa dire che penso che si possa dire che sia l'azione stessa ciò che gli uomini da un tempo all'altro tra il passato il presente all'avvenire condividono e l'azione e forse prima ancora di chiedersi perché a ron direi perché la teoria dell'azione politica e forse alla luce della semplicità e della gravità della questione che fare semplicità e gravità di una questione che non necessariamente il liberalismo affronta il giusto livello di serietà non necessariamente il liberalismo svolge in tutte le sue conseguenze politiche ma invece era certamente quello che faceva ron perché partiva dall'azione e perché cercava di svolgerla interamente ora nel nostro presente certamente si può anche accettare assumere un punto di partenza liberale che è quello della della crisi dell'ordine liberale sì in europa quanto meno in europa forse unicamente in europa sia si interpreta la crisi si interpreta lo strazio dell'ordine internazionale come l'insieme di manifestazioni di reazioni ai principi e le tendenze liberali così che lo si interpreta in europa ed è un punto di partenza insomma una suggestione che obbliga a chiedersi in che senso a ron ci rischiara e forse se dovessi in questo contesto alla luce della vostra gentile invitazione introdurre la ciò che è distruttivo a ron direi che non necessariamente la risposta a questa questione prevedibile non necessariamente la risposta di ron perché l'ordine liberale fragile e prevedibile certamente non è ideologica ora se ron è un caso imminente mi sembra che giustificava spero scusi se ne interrompo solo un attimo benvenuto al professor pane bianco come annunciato a roma di testa buonasera buonasera professore dicevo appunto che se se occorre chiedersi perché consultare la teoria dell'azione politica è perché la questione stessa dell'azione ha una semplicità una gravità persistente responsabilità della decisione e poi perché ron l'ha messa al centro della sua riflessione ciò che fa di lui certamente un liberale atipico libera di tipo nuovo si potrebbe dire conto ville forse ogni ogni liberale di tipo nuovo quando non è ideologico e lì il paradosso un po di questo libro questo corso del 73 esplicita e quello che è anche il paradosso che piace il mio incontro con ron nella misura in cui a ron se è passato da un se da un millennio all'altro è la luce dell'ipotesi che ha compreso il novecento le grandi alternative prove del novecento che non si è sbagliato si dirà banalmente che aveva ragione ma sia un po insomma citati in ambito liberale oppure deplorata la saggezza di ron in ambito in altri contesti ma un po distrattamente senza senza andare al cuore senza andare alla radice senza chiedersi quel del pensiero aroniano senza chiedersi qual era il tipo qual era il giudizio politico di aron che al di là del suo genio dei suoi carismi i suoi talenti propri gli ha permesso di leggere di interpretare di giudicare con chiarezza le grandi sfide del novecento allora se se dovessi come dicevo sfuggire alla tentazione di un'interpretazione facile di ron le interpretazioni oppure gli obli facili che ha di fatto subito direi che basterebbe cominciare a leggere non solo il nostro corso e meditare il suo titolo teoria dell'azione politica ma anche chiedersi che libri ha scritto ron e si vedrà rapidamente caro non ha mai in fondo proposto una deduzione logica a partire della sioma della dipendenza individuale del liberalismo ma scritto libri sulla guerra e la pace sui regimi politici sulla tentazione permanente del della sofistica o dell'ideologia nella sua forma aggravata del novecento e questo senso come dire non permette neanche ai suoi ammiratori non permette nemmeno ai liberali di facilitare di fare di rendere semplice l'interrogazione del perché ron è stato capace di un giudizio delle azioni un giudizio pratico storico di un giudizio politico istruttivo di solito in queste e in questo contesto per ringraziarvi per non prendere a leggere il vostro invito si citerei volentieri un famoso commento una famosa recensione di a ron hayek in cui si la definizione libera della libertà e che di fatto introduce quello che anche questo corso ci aiuta a pensare rispetto alla nostra attualità storica ovvero alla messa alla prova le contraddizioni dell'ordine internazionale dell'ordine interno dell'ordine liberale perché in questa recensione da e famosa del 61 come si può insomma introdurla per 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 dare un po la misura dell'attualità in senso forte del corso che abbiamo pubblicato con alessandro campi e vi sono due punti che ron obietta al liberalismo di cui sposa l'amore della libertà direi o la difesa della libertà un primo una prima obiezione un primo avvertimento interno e consiste a dire che la libertà una società libera non può insomma fare astrazione dell'educazione alla libertà l'educazione alla responsabilità anche delle vertù civiche e morali che rendono possibile la libertà questo primo punto che si potrebbe dire interno che riassume un'espressione sintetica di questo commento hayek commento generoso commento ammirato ma anche critico che riassume una formula perché una società possa essere libera diceva obiettava ron hayek occorre innanzitutto che sia una società d'altra parte obiezione internazionale che il professor pane bianco insomma credo di ricordare abbia citato per la prima volta mia presenza si possa dire così e che i liberali hanno questa questo scusatemi scusa se ti interrompo io non vi vedo più da un pezzo io ho davanti uno schermo che dice zoom punto scusa non vorrei interromperti noi noi la vediamo provi in alto a destra vista e c'è galleria prego professor deligio dicevo appunto un'interruzione come come accadono nella storia nelle tendenze storiche che 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 un certo pensiero sociologico un certo pensiero liberale amano immaginare come una tendenza che si prolungherà con un'inerzia ecco ron obiettava l'altra obiezione di ron consisteva a dire che i liberali in generale i pensatori politici forse persino i filosofi greci fanno astrazione dell'ordine internazionale della sfida esterna se si si sommano queste due obiezioni si potrebbe dire una certa interpretazione o coerente ortodossa oppure forse dottrinale del liberalismo di aron si capisce perché ron sembra offrire nelle sue pagine migliori sono tante nelle sue pagine più intelligente una prospettiva che va al di là del liberalismo che è quindi che non non cade forse nelle trappole né dei critici impazienti del liberalismo e di dottrinario delle versioni più sistematiche del liberalismo è una difesa della libertà che se introduce a una teoria dell'azione perché insomma intende rispondere alla domanda che fare per i popoli per i governanti per i cittadini per il pensatore che giudica la risposta tende a rispondere alla domanda che fare direi comuna come se fosse una questione più più la più ampia più inglobante più completa della questione come difendere la libertà naturalmente la libertà è un elemento un ingrediente decisivo della risposta umana e politica la questione che fare naturalmente il liberalismo però non è stato un elemento della risposta piena alla questione che fare di una nazione quindi qual è il miglior regime ma forse questa sfumatura che sembrerebbe una sorta di richiamo dell'ordine gerarchico delle questioni quelle in ogni caso le questioni che ron ha messo al centro del suo pensiero permette di capire perché per la ron nella fattispecie se nel novecento le democrazie liberali erano preferibili erano preferibili nella misura in cui erano capaci e solo nella misura in cui erano capaci di rendere esperienza di rendere attivi beni umani e naturalmente dei beni umani la libertà e insomma l'elemento di accompagnamento a ron giudicava l'umanità se posso dire così ma le umanità reali le nazioni reali le nazioni attive i regimi così come operavano l'esercizio del governo così come aveva luogo direi i principi così come erano incarnati in una conferenza storica del 39 all'ombra della guerra osava richiordare ai propri concittadini che i principi non sono nulla se non si è capace di trasmetterli di iscriverli di perpetuarli nella storia quindi di renderli la materia e la fonte allo tempo di decisioni quindi se a ron se la difesa della libertà della democrazia liberale come regime meno imperfetto di a ron non era mai dissociabile da una riflessione sull'esperienza stessa sulle azioni sulle esperienze che questi regimi rendono possibile ed è il motivo per cui è rimasto un pensatore politico direi che è rimasto un pensatore politico che è rimasto un pensatore pratico che ha messo al centro della sua riflessione la risposta alla questione che fare più ancora del sociologo del liberale del pensatore francese che è stato ed è il motivo per cui 5 10 minuti che mi restano dovessi dovessi dire a un lettore un cittadino un pensatore oggi da dove cominciare alla luce di che le questioni alla luce di quali lezioni possibili eventuali affrontare questo corso del 73 che quindi un corso del collège de france sì sì che si situa insomma l'intersezione tra le riflessioni della guerra di a ron che confluiscono nel 76 in un libro importante pensé la guerre e le riflessioni le preoccupazioni che a ron esprimeva riguardo a partire da questo tornante che è stato un po simboleggiato dal maggio 68 se dovessi dire appunto se avendo ricordato che l'attualità che la nostra invita a consultare questo questo pensatore politico non solo liberale direi che è stato a ron alla luce insomma di quale preoccupazioni quale lezioni potenziali discutere e leggere innanzitutto questo corso del 73 del collège de france intitolato significativamente teoria dell'azione politica mi verrebbe voglia di sottolineare insomma tre lezioni che senz'altro damiano palano e professor pane bianco discuteranno la prima come dire una lezione di etica intellettuale di metodo dicevo prima a ron è stato un po celebrato o allora oppure rifiutato condannato dimenticato deliberatamente alla luce di una certa tendenza del pensiero che di quello è illustrato insomma i limiti che direi il moralismo astratto perché vi è anche un modo di celebrare la vittoria di certi regimi e di certo e di certi principi che astratta ecco se affrontando questo libro si vedrà insomma un punto fisso di a ron che è stato il tentativo di elaborare un giudizio politico completo una definizione dei regimi politici una definizione dell'ordine internazionale contingente il più capace insomma di preservare mettere all'opera i beni umani un giudizio politico che si situa come dire che si definisce in atto sottraendosi a due tendenze spontanee del pensiero morale del pensiero pratico in particolare che sono il moralismo il cinismo e quindi questa prima lezione che si può dire di tono anche del suo pensiero della sua lezione non solo di metodo ma di tonalità della dell'etica intellettuale di a ron è particolarmente oggi significativa perché forse dal suo tempo che aveva come insomma punto di partenza un'espressione molto caratterizzata e molto visibile e per certi versi anche molto identificabili dell'ideologia nostro tempo in una certa misura alla stesso tempo diluito aggravato le sfide che affrontava ron perché l'ideologia è divenuta o un'obiezione facile naturalmente è più facile interpretare i mali del secolo prima che i nostri quindi non ci sono molto staliniani tra di noi per esempio ma da un altro punto di vista forse la questione è diventata anche più inafferrabile quindi si è aggravata perché è difficile dire oggi dove si situa l'ideologia e per altri versi forse viviamo una sorta di convergenza tra un diluvio di moralismo e un diluvio di cinismo e forse quel tipo di cinismo che anche il moralismo quindi se si vede se si legge attentamente questi questo questo corso questo libro si vede carone in un modo molto caratteristico cerca di trovare il pensiero politico e pratico il più completo quello che è capace di rispondere alla questione che fare per un governante come giudicare per un cittadino e per un pensatore quindi avendo quando si ha bisogno di andare dall'alfa all'omega di un giudizio quando si ha bisogno di definire i mezzi e i fini congiuntamente sia nella misura di poti doversi sottrarre al moralismo al cinismo la prima lezione che avrei voglia di sottolineare la seconda e quella forse la seconda e la terza un po indissociabili sono quelle che sono sicuro il professor pane bianco e professor palano damiano che non sono sfuggite che non sono sfuggite loro il secondo punto che è il cuore ancora del nostro tempo e questo è il tentativo che si trova tra le righe di questo corso di approfondire il rapporto tra la vita politica interna e la vita politica internazionale la dimensione internazionale fenomeni politici ricordo un testo giovenile nella mia gioventù del professor pane bianco però qui questo questa intersezione la credo che la approfondisca la chiarisca in un modo molto profondo anche se un po' approssimativo come un corso orale lo permette nella misura in cui innanzitutto ne ricorda la classicità di questo problema che non sfuggiva né a aristotele né a platone come cercare la vita buona allorché la sfida internazionale la sfida del nemico la pluralità di città di comunità politiche estende un'ombra sulla ricerca della vita buona della buona ripartizione delle delle risorse della buona definizione dell'educazione innanzitutto ne ricorda il tema classico però neanche illustra credo questa sorta di 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 oscuramento contemporaneo di oscuramento in ogni caso di approfondimento di della 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 sua pregnanza ordinaria pratica voglio dire con ciò che non ci ricorda che forse se all'uscita della guerra fredda all'alba di ciò che si chiama la globalizzazione un liberale meno pensatore politico di aaron poteva sperare che l'ordine interno e l'ordine internazionale sarebbero stati insomma risolti quindi soppressi questa distinzione questa tensione questa dialettica dal divenire società civile del mondo questo è un altro modo di intendere la globalizzazione di definirla però sembra dire che la minaccia e sembra prevedere insomma che la minaccia che 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 pesa su di noi è il farsi come già nel novecento in questa società civile internazionale una guerra civile internazionale dove l'interno e l'esterno sono difficili da definire quasi impossibile da definire a livello istituzionale a livello di decisione a livello di coscienza dell'umanità cosa interno cosa esterno di quale come a quale comunità si appartiene quale comunità esterna la comunità umana ecco se si legge questo corso si troverà l'eleganza la coscienza profonda e classica di aaron in questa sessione che forse definisce l'umanità che mi conduce al terzo ultimo punto con cui insomma introdurrei la pertinenza la classicità e direi persino l'onestà del libro il tentativo di un cittadino di riflettere come professore in questo immenso sforzo di discriminazione concettuale pratica che ron dispiega l'altro punto insomma etica intellettuale come sfuggire al moralismo al cinismo come riformulare il rapporto tra l'interno e l'esterno dell'umanità nelle proprie decisioni le nostre decisioni la coscienza che abbiamo dell'interno dell'esterno dell'umanità il terzo punto è il rapporto tra guerra e politica che lascio da ultimo ma che ovviamente forse offriva il punto di partenza obbligato a ron carone scrive più che altro parla e posso usare questa espressione questo corso lo esprime un corso orale che è stato trascritto nel momento in cui tra il 1968 e gli anni 70 l'europa ed è forse una situazione politico spirituale a cui non siamo per nulla usciti l'europa europea che cercava insomma di chiarire distruire si trova in un paradosso è un po riassunto dalla da quello che veniva elaborato in quel tempo a parigi in particolare come il rovesciamento della formula di clausevitz paradosso che consisteva insomma a dire che la politica che il proseguimento della guerra quando con altri mezzi quello che ron in questo libro poi in pansella gher cerca di salvare non solo il senso strategico ma il senso morale pratico della formula di ben intesa di clausevitz che consiste a dire che la guerra che il proseguimento della politica con altri mezzi dunque in che senso ron credo approfondisca ci aiuti approfondire a chiarire questo rapporto perché non sembra dirci come come con il professor campi abbiamo poi cercato di introdurre le nostre prefazioni che sembrava l'europa del suo tempo la francia in particolare sembrava insomma straziata tra una tra due tesi paradossali più simmetriche che opposte la prima delle quali consisteva a dire che la guerra diveniva insensata che non vi è ragione per le comunità politiche che non vi è più ragione mai ragione che non vi è mai guerra giusta di condurre delle guerre quindi di poter dire addio alle armi una formula di a ron a questa ipotesi a questa questa illusione o allora questa speranza giusta ma mal concepita si accompagnava paradossalmente sentiva ron percepiva ron era il linguaggio del maggio del 68 era il linguaggio filosofico sociologico di certi pensatori interlocutori di ron si accompagnava la tesi paradossale che in realtà ecco la rovesciamento della formula che la guerra era un po erano le relazioni professore studente erano le relazioni familiari era insomma la forma di il dominio la violenza diventa il dominio la forma la verità di tutti i legami quindi ron ci chiarisce forse questo paradosso straziante che in cui siamo ancora direi inabissati che consiste da un lato non riconoscere più la buona articolazione tra la forza e la ragione quando si tratta per esempio della risposta dare alle minacce della guerra e d'altro canto invece estendere a tutta la relazione sociale l'ipotesi del dominio se la guerra è ovunque bellicosa se è impossibile sembra dire ron se è impossibile distinguere ormai tra guerra e pace ebbene aggiungerei riformulando parafrosando ron sembra dire ma allora l'umanità diventa ingovernabile l'umanità diventa informe l'umanità diventa incomprensibile a se stessa come se tutto fosse guerra e nulla lo fosse ecco la confusione che cerca eroicamente di distinguere concettualmente a ron tra interno e esterno guerra e politica in questo senso che direi per concludere se ho trovato a ron come dicevo prima al tempo in cui ero studente a bologna del professor pane bianco se ho continuato a approfondirlo 70 anni dopo in realtà avevo un po lasciato da dieci anni accanto a ron e l'ho ritrovato in questo corso quello con alessandro campi volentieri innanzitutto per un una lezione di etica intellettuale giard sembrava dire carona quasi uno sforzo della ragione quasi religioso pensare che si possa sempre discriminare qual è la cosa giusta da fare anche se i mezzi sono iperbolici anche se la violenza sembra illimitata l'ho ritrovato per questo per un'etica intellettuale per questo che insomma lo offro stasera ma dicevo prima non solo dei liberali ma l'ho ritrovato perché è questo pensatore dell'azione raro che si che che cercava insomma di ricordare quello che insomma ciò che per noi compito il più attuale cioè come come distinguere la verità e dalla menzogna dall'idologia dall'idolatria come pensare la guerra come pensare gli obiettivi delle nazioni che cosa sono le nazioni perché continuano avere un compito storico se prendete queste interrogazioni che hanno che insomma hanno mi avevano spinto e mi hanno spinto ancora oggi a proporre a ron e dialogare con a ron per primo direi che è così che forse si spiega la difesa della libertà che è sempre una certa difesa anche della verità che sempre una difesa della pace che anche sempre una certa difesa del significato dei corpi politici grazie grazie professor giulio deligio che ci ha dimostrato la sua passione nei confronti di quest'autore che ha messo a disposizione di un pubblico specialistico ma non solo come poi vedremo anche durante la serata professor pane bianco credo che si sia appassionato di ron non essendo una signora me lo consentirà qualche decennio fa senza sicuramente stato è tanti anni che ha introdotto curato diffuso studiato e si è appassionato appunto a questo grande autore professor pane bianco sta cercando di applicare anche l'individualismo metodologico alle relazioni internazionali come dire materie che non sono come dire abituati a utilizzare questo paradigma di ricerche quindi un libro che si chiama teoria dell'azione politica non può che essere apprezzato in generale anche dal professore noi da liberali cultori della scuola austriaca quando si parla di individualismo metodologico e dell'azione politica ci viene in mente ovviamente un maestro come mises la cui azione umana credo che possa essere sia il punto di riferimento in generale in questi temi ma insomma ron è un pensatore molto eclettico molto non incasellabile e quindi uno dei massimi esperti se non il massimo esperto che abbiamo in italia c'è il professore pane bianco siamo curiosi e felici che ci sia con noi questa sera e di ascoltarlo l'ho buttata professore perché sennò c'era l'effetto eco quindi dovrebbe attivare l'audio in basso a sinistra e poi la ascoltiamo più che volentieri in basso a sinistra dovrebbe esserci attiva audio e quindi poi riusciamo ad ascoltarla perché sennò c'era un fastidioso effetto eco per il momento non ce la facciamo vedo se le mando un invito probabilmente adesso dovremmo riuscire a farcela se no passiamo al professor palano professore gli ho mandato scusate è colpa mia che ho disattivato l'audio del professore se riesce in basso a sinistra se no lasciamo la parola al professor palano professor palano temo che sia il caso che intervenga lei in attesa che riusciamo ad attivare l'audio del professor palano bianco eccoci sera 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 tutti anche buonasera professor palano bianco che non ho avuto modo di salutare prima dell'inizio del nostro collegamento dirò anch'io qualcosa a proposito di questo libro curato da giulio geligio e da alessandro campi e riprendendo alcune delle considerazioni in gran parte che deligio formulava alla fine del suo intervento innanzitutto partendo dal titolo di questo corso di questo libro che raccoglie le trascrizioni scusa sentirò un po mi sentite adesso perfettamente grazie e il titolo teoria dell'azione politica è come spesso capitava per questi corsi potrebbe essere considerato anche leggermente forviante nel senso che quello di cui a cui si dedica ron è un tipo particolare di azione politica e come spiega ron dello studio del fenomeni politici si può si possono seguire si possono adottare due prospettive diverse una che è lo stesso a ron coltiva in molti altri suoi testi concentrata sulle regole e sulle istituzioni sulle forme all'interno del quale si svolge il gioco politico e poi invece una prospettiva centrata sulla strategia adottata dai dai singoli attori all'interno di quel gioco ed è proprio di questo tipo di secondo tipo di di indagine che si occupa a ron all'interno di questo corso ma in realtà si occupa di un tipo particolare di azione politica che è l'azione politica in gran parte violenta e cioè è quell'azione politica che punta a prendere il potere ad impossessarsi del potere anche con l'utilizzo della violenza ed è questo il anche la spiegazione del motivo per cui in gran parte questo corso come altri che svolge in quegli anni a ron è in gran parte anche un confronto con il pensiero di clausovitz clausovitz è ovviamente il pensatore per eccellenza della guerra e ci potrebbe sorprendere trovarlo invece in un testo che parla di azione politica ma il collegamento il motivo per cui a ron utilizza clausovitz per interpretare questo tipo di azione politica è legato proprio al tipo particolare di azione politica a cui si riferisce è il confronto di clausovitz con a ron è un confronto che dura per per decenni che rappresenta in qualche modo un pensatore clausovitz al quale ron continua a tornare quasi ossessivamente nel corso dei decenni perché sicuramente lo ritroviamo al centro insieme ad altri naturalmente di pace guerra tra le nazioni ma lo troviamo soprattutto nel nel doppio volume del 1976 che in qualche modo conclude la riflessione il corpo a corpo possiamo dire di a ron con clausovitz durato per per tanti anni e non lo utilizza però soltanto a ron non utilizza clausovitz soltanto in virtù del dell'interesse che ha nei confronti di questo di questo pensatore della guerra lo utilizza anche per un altro motivo che ci riporta esattamente insomma quel contesto che giulio deligio richiamava prima chi conosce a ron sa che sicuramente un autore prolifico un autore che impegnato nella discussione pubblica quasi costantemente che si occupa di una miriade di temi ma possiamo forse riconoscere due linee principali in cui possiamo distribuire le gran parte dei suoi lavori uno è sicuramente la riflessione sulle relazioni internazionali la riflessione sulla guerra in qualche modo una riflessione in cui si trova coinvolto suo malgrado quando scoppia la seconda guerra mondiale e a ron deve riflettere inizia a riflettere su queste dinamiche che non lo abbandoneranno poi per 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 fino alla fine ma l'altra grande linea è quella della polemica contro il fanatismo ideologico che ritroviamo in alcuni dei suoi testi più famosi l'occhio degli intellettuali marxismo immaginari la rivoluzione introvabile testo fortemente polemiche contro il maggio 68 e contro la celebrazione che molti intellettuali francesi ne avevano dato ma naturalmente anche la polemica contro l'ideologia totalitaria che lo accompagna negli anni soprattutto nei due decenni successivi alla seconda guerra mondiale ecco in qualche modo in questo corso questi due aspetti si intrecciano in un modo particolare perché per quanto ci possa sembrare strano Clausewitz in quegli anni viene eletto da studiosi che non sono interessati alla strategia militare ma che sono influenzati sono indirizzati in gran parte dall'utilizzo che soprattutto Mao aveva fatto di alcune formule di Clausewitz e che ovviamente declinate non al pensiero della guerra con quella che intendeva Clausewitz ma della guerra rivoluzionaria della guerra di popolo e questo successo, questo interesse che in quegli anni c'è nei confronti di Clausewitz è sicuramente uno dei motivi che indirizza il corso di Aron. Per quale motivo? Perché come diceva Giulio De Rigio per estensione del modello della guerra si intendono ovviamente negli ambienti soprattutto della sinistra non necessariamente della sinistra maoista ma sicuramente della sinistra più radicale del tempo si legge si utilizza la metafora della guerra si utilizza la logica della guerra per interpretare i fenomeni di conflittualità sociale, i fenomeni di violenza e non è sicuramente casuale che Aron dedichi anche qualche passaggio polemico alla nozione di violenza simbolica che aveva elaborato un ex allievo di Aron per Bourdieu che era stato sicuramente anche uno degli forse non degli ispiratori ma comunque uno dei pensatori che più aveva influito sulla critica al sistema scolastico e universitario francese. Ecco, dinanzi a questa situazione, a questo contesto in cui come diceva Giulio De Rigio la classica formula di Clausewitz secondo cui la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi quindi questa formula viene rovesciata, viene invertita e si tende invece a vedere la politica come una prosecuzione della guerra con altri mezzi quindi il corso di Aron in gran parte punta a operare una sorta di pulizia, di chiarimento punta a tenere distinti quelle espressioni che nella polemica ideologica politica del tempo tendevano insomma per eccesso retorico qualche volta a confondersi l'uno con l'altro e questo però è anche un modo che induce Aron a riflettere sulla politica a riflettere su quelle che sono le caratteristiche fondanti distintive della politica e che lo costringono a confrontarsi in maniera esplicita con alcuni dei pensatori con cui inevitabilmente era entrato in contatto nel corso del tempo e con cui aveva proseguito un dialogo in gran parte silenzioso uno tra questi è sicuramente Carl Schmitt ma ce ne sono anche altri e quello che in questo sforzo di pulizia concettuale cerca di fare soprattutto Aron è innanzitutto distinguere la guerra dalla politica distinguerla nettamente, mostrare che si tratta di due terreni che pur avendo delle connessioni fra loro sono e devono rimanere nettamente distinti in questo senso richiama esplicitamente Clausewitz dicendo che Clausewitz quando afferma che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi non intende dire che si tratta della stessa cosa ma si tratta che la guerra è un mezzo di cui si serve la politica e che la politica stabilisce le finalità della guerra e che assegna dunque a chi deve condurre concretamente la guerra quali sono le finalità e gli obiettivi e questa è una distinzione che secondo Aron è necessario non perdere ma c'è anche naturalmente un'altra distinzione a cui facevo riferimento anche Giulio De Ligio poco fa che è la distinzione tra interno ed esterno tra la politica interna e ciò che avviene al di fuori dei confini degli stati nei rapporti fra gli stati la politica all'interno dell'entità politica come la chiama Aron cioè all'interno della comunità politica non può fare a meno di ricercare la legittimazione da parte dei cittadini in questo senso l'elemento fondante della comunità politica è proprio il rapporto di comando e obbedienza con la legittimazione del comando qui seguendo quasi insomma in alcuni punti letteralmente Max Weber Aron ritrova l'elemento della legittimazione del potere come l'elemento che distingue nettamente la dimensione interna della politica da ciò che avviene all'esterno della politica all'esterno nella guerra non c'è una ricerca da parte dei contendenti di una legittimazione da parte dei sudditi su questo Aron ad un certo punto si rende conto di esagerare nell'eccesso di quando afferma che non c'è legittimazione nella guerra perché naturalmente una componente di legittimazione tra gli avversari esiste soprattutto in certi tipi di guerra ma evidentemente quello a cui si riferisce è la legittimazione del comando che si trova all'interno della comunità politica ed è anche sull'onda di questo tipo di discussione che si confronta con il grande tema della guerra civile internazionale l'elemento che molti studiosi sottolineano che lo stesso Carl Schmitt aveva evidenziato in alcuni scritti famosi nella teoria del partigiano che era uscito proprio pochi mesi prima di questo corso insieme al concetto di politico in una collana diretta dallo stesso Aron e su questo Aron riconosce che nel corso del Novecento qualcosa di radicale è avvenuto rispetto alle guerre tradizionali a cui pensava Clausewitz e riprende anche in parte la polemica contro la criminalizzazione della guerra contro la criminalizzazione del nemico che è uno dei cavalli di battaglia se vogliamo dire così di Carl Schmitt fin dagli anni 30 ma questo nonostante tutto non attenua il suo tentativo la sua volontà di mantenere nettamente distinti i due piani l'interno dall'esterno nonostante riconosca che ci siano queste tendenze Aron non ha esitazioni a riconoscere che ricontinua ad esistere continua a rimanere netta la distinzione tra la guerra e la politica fra l'interno e l'esterno e questo è sicuramente anche uno degli elementi su cui Aron lascia in qualche modo un punto di domanda a cui dovremmo cercare di rispondere noi perché senz'altro quello che abbiamo visto negli ultimi decenni ha ricombinato in maniera molto diversa rispetto a quello della guerra civile mondiale dei tempi della guerra fredda i confini la distinzione fra interno ed esterno ma senz'altro li ha resi ulteriormente problematici ma Aron non dà forse una risposta questa insomma è una mia supposizione ma poi vedremo magari se effettivamente è così anche perché Aron conserva una prudenza per quanto concerne le previsioni che possono riguardare la dimensione internazionale in generale le tendenze politiche è questo che lo distingue in gran parte da alcuni realisti Aron forse è egli stesso un realista ma è molto lontano da alcuni realisti delle relazioni internazionali che ritengono che si possono ridurre individuare delle spiegazioni persino di tipo causale formulare dunque delle previsioni Aron è notoriamente molto lontano da questo e da molti altri aspetti del realismo più classico ed è la stessa prudenza che in qualche modo conserva anche nella questione finale che ci lascia che è ovviamente una questione forse la grande questione che da sempre si pone il pensiero politico e cioè sulla naturale o meno aggressività degli esseri umani Aron affronta, lascia per ultimo questo quesito mette a confronto due tesi opposte quella dell'etologia comparata di Conrad Loretz che dice che l'essere umano è aggressivo naturalmente in virtù della sua storia evolutiva e quella invece del comportamentismo di Skinner che dice no, tutti gli esseri umani sono condizionati dal loro ambiente potrebbero essere condizionati in modo tale da perdere del tutto la loro aggressività Aron su questa domanda non ci lascia con un punto di domanda anche se naturalmente Aron ha probabilmente una risposta che è legata in qualche modo alla stessa idea che l'aggressività, la conflittualità sia in qualche misura incardinata nell'esperienza umana e con questo per adesso ho finito e vi ringrazio Grazie al professor Palano che ci ha fatto fare dei passi in avanti nell'approfondimento del pensiero di Aron e di questo testo e il professor Panebianco lui avevamo già ricordato che ci siamo già occupati come l'ordine liberale di Aron una serata dedicata appunto all'oppio degli intellettuali in cui c'era lo stesso professor Panebianco Alessandro Campi e il compiato Piero Craveri che è mancato alla fine dell'anno scorso e che ci ha deliziato con la sua competenza la sua passione la sua conoscenza e mi sembrava anche l'occasione per ricordare la scomparsa di questo grande uomo che ha dato tanto anche al pensiero sociale, al pensiero politico italiano Professor Panebianco a lei, l'ascoltiamo più che volete dire Beh, gli interventi di Deligio e di Palano mostrano, hanno già indicato hanno già messo a fuoco la personalità di Aron Aron è un pensatore politico a tutto tondo e è un liberale, sì ma è un liberale al Tocqueville come lui stesso dice in alcune pagine cioè uno di quei liberali che non svaltano la politica ma la ritengono centrale nella vicenda umana Aron, fin dagli anni 30 in realtà, fin da quando dal suo soggiorno in Germania quando scopre Weber scopre, da un lato scopre un pensatore, un sociologo che è diverso dalla sociologia che ha conosciuto in Francia e che per lui anche la scoperta di come la sociologia sappia e possa occuparsi della politica e dell'azione politica Weber ha l'azione politica come uno degli elementi centrati del suo pensiero della sua sociologia politica e Aron lo scopre in Germania ma scopre anche che la storia è in movimento cita spesso la celebre frase di Toynbee su questo punto e da quel momento in avanti dovrà si occuperà di due problemi che si intesse naturalmente come sociologo e come filosofo il suo problema è come garantire l'ordine politico all'interno della città in un mondo violento e in cui le città sono in guerra tra loro come liberale si pone il problema di come garantire la libertà di fronte alla guerra di fronte ai conflitti violenti tra gli esseri umani questo fa sì che le sue domande e questo saranno due temi che si intersecano e che si porterà dietro fino alla fine alla conclusione della sua vita e del suo lavoro intellettuale delito ha citato giustamente un testo famoso e cioè la recensione di Aaron Hayek io ho riletto spesso la recensione dato che questi sono due autori per me entrambi molto importanti e in qualche modo due facce di una stessa mela il punto il punto chiave lì è che questi sono due pensatori che hanno un problema di ricerca completamente diverso Aaron appunto ha il problema di come garantire la libertà in presenza del conflitto e dice Hayek la tua società libera deve fare i conti con il tema della guerra deve fare i conti con il conflitto e mentre tu non fai i conti con questo il problema di Hayek è completamente diverso Hayek infatti le pagine di Hayek più deboli sono proprio quelle sulla politica perché il problema di Hayek è come si formano gli ordini spontanei cioè come le società evolvono in modo senza la direzione di qualcuno e come la cooperazione può sorgere e svilupparsi senza un piano e senza un pianificatore quindi sono come dire obbligati a non incontrarsi pur rispettandosi perché i loro obiettivi di ricerca sono completamente diversi questo libro teoria dell'azione politica possiamo dire è un libro ponte perché è un libro che da un lato approfondisce temi che aveva già trattato un decennio prima in pace e guerra fra le nazioni e dall'altro prepara il grande libro su Klaus Ritz di pochissimi anni dopo ha ragione Palano si occupa di azione politica da un particolare punto di vista lo dice lui stesso nelle pagine finali quando dice quest'anno mi sono limitato individuare l'aspetto violento della prasseologia politica e a questo e su questo si concentra infatti quando parla dell'azione politica in generale lo fa in due passaggi all'inizio quando identifica questo però è un punto problematico peraltro identifica l'azione politica con la policy quindi con contrapponendo la politics e dall'altro quando discute di Freund e di Carl Schmitt ed è interessante notare mi pare credo che le note le note le ha fatte deligio credo giustamente osserva che l'obiezione che fa Aaron a Schmitt è non troppo diversa da quella di Morgentau osservo perché me ne sto occupando in questo momento che anche Giovanni Sartori sono tre autori che fanno questa cosa di modo di tutto indipendente fa a Schmitt obiezioni molto simili a quelle che troviamo in Aaron cioè l'idea che l'opposizione amico nemico sia ciò che definisce la politica non è accettato da Aaron così come da Morgentau o da Sartori a proposito del rapporto complesso di Aaron con realismo se si leggono attentamente i due autori Morgentau e Aaron sono i due realisti studiosi di relazioni internazionali più celebri del dopoguerra e si detestavano si detestavano cordialmente Morgentau scrive pagine di fuoco Morgentau era uno sanguigno quindi molto Aaron è freddo è compassato ma si detestavano e si si danno parecchi colpi nel corso del tempo però se si legge con attenzione si vedono molti punti di somiglianza ci sono molte più affinità tra Morgentau e Aaron di quanto i due non siano disposti ad ammettere e io credo che queste affinità dipendano dal fatto che tanto Morgentau quanto Aaron hanno letto con grande attenzione Weber e hanno e quindi si sono abbeterati al pensiero di Max Weber sul punto sicuramente c'è l'etica di Aaron c'è il rigore di Aaron c'è il metodo che è una grande lezione di metodo che continua a essere valida anche se il mondo di cui lui parla non c'è più ma questo non ha importanza a proposito delle distinzioni interno esterno no due notazioni su primo interno esterno e secondo il problema dell'ideologia oggi molti autori pensate al tema della guerra ibrida molti autori che si occupano di guerra ci dicono che ci sono molte situazioni ambigue in cui situazioni che stanno a cavallo tra condizioni di pace e condizioni di guerra e in parte questo è dovuto a sviluppi tecnologici e in parte naturalmente è dovuto ai nuovi rapporti tra le comunità la somma di queste due cose rende probabilmente Aaron oggi sarebbe molto più prudente sul tema della distinzione interno esterno perché forse è ancora più problematica di quanto lui già non la vedesse in quel momento la seconda cosa riguarda il tema dell'ideologia quando scrive nel 73 siamo ancora all'interno del sistema bipolare e del grande scontro ideologico tra mondo occidentale e unione sovietica in una fase post bipolare in una fase che alcuni dicono di essere ormai un assetto di tipo multipolare quel tipo di contrapposizione ideologica non può più esserci naturalmente e quindi il tema dell'ideologia diventa confuso e molto più difficile da mettere a fuoco in sostanza il mondo di cui parla Ron è più semplice del mondo in cui siamo immersi noi è più semplice perché c'erano alcune divisioni ideologiche forti e fisse su cui si poteva facilmente riflettere e mettere a fuoco oggi siamo in un mondo completamente diverso un mondo mobile anche dal punto di vista ideologico al punto che alcuni non vedono più ideologia che in realtà poi c'è anche se si trasforma e si modifica quindi l'altra cosa che voglio dire è questa a me piace sempre leggere i lavori di Aaron e quindi quando non conoscevo questo libro quando l'ho letto l'ho fatto con piacere sempre con piacere che provo quando leggo cose di Aaron o rileggo cose di Aaron però forse questo testo dovrebbe essere come dire la prima parte di un volume il primo volume di un doppio volume perché lui dice questa è solo una parte del problema poi c'è il problema delle regole e di questo io non mi sono occupato allora qui sembra un po' tagliata a metà la lezione c'è un aspetto che viene trattato e l'altro aspetto che è altrettanto importante e lo sottolinea spesso Aaron che però lui rinvia a un altro a un altro testo in realtà i due testi probabilmente dovrebbero essere letti letti insieme per poter per poter avere una visione più precisa anche di ciò che intende in quella prima parte quando associa l'azione politica alla policy che è un punto che messo così è un po' un po' strano per certi versi e che forse è in grado di spiegare nell'altra parte Aaron in realtà mi ha sempre affascinato perché era è un autore che consentiva di a chi era interessato a studiare le dinamiche internazionali quindi i problemi della guerra e della pace era utile per capire per porsi il problema di che cosa accade alla libertà delle persone in un mondo in un mondo in un mondo violento e questo fa in effetti contribuisce a fare un liberale atipico perché in genere i liberali non si sono occupati della guerra non si sono occupati della guerra per varie ragioni prima di tutto perché ne avevano ne provavano fastidio ma soprattutto perché sapevano e qualunque liberale ha sempre saputo che la guerra mette a rischio la libertà quando arriva la guerra le libertà vengono ridimensionate drasticamente non si sa se vengono ridimensionate per sempre oppure se è un momento una fase di passaggio ricordiamo che negli anni 40 politologo Roswell aveva scritto un saggio sul Gennison State in cui diceva gli Stati Uniti adesso entrano nell'arena internazionale dove siano stati fuori per tutta buona parte della loro storia cosa accadrà alla Costituzione cosa accadrà e cosa accadrà quindi alla libertà delle persone il rischio quando si va quando un paese si trova immerso nella lotta internazionale che questo abbia delle ricadute pesantemente negative sulle libertà interne poi Roswell vent'anni dopo ritornerà sul tema per dire avevo esagerato nel senso che poi le libertà si sono mantenute lo stesso però il problema c'è ed è uno dei problemi che attraversano e che stanno dentro tutto il pensiero di Aron dagli anni 30 ripeto fino alla fine della sua vita grazie professor Pallibianco allora in attesa di un secondo giro ci sono delle persone che vogliono fare delle domande quindi non so se il professor Deligio vorrebbe magari fare commento degli altri due relatori poi passiamo alle domande Giulio grazie grazie innanzitutto a Damiano e al professor Pallibianco per quanto hanno detto perché è sempre un piacere letteralmente di poter discutere di uno sforzo anche se lo sforzo fondamentale fu quello di Aron quello che abbiamo fatto con il professor Campi di prolungare quindi innanzitutto un ringraziamento un commento solo sul sul punto tutto ciò che ho ascoltato è ovviamente importante per lasciare il tempo anche a chi ci ascolta per dire un punto solo sintetico su entrambi gli interventi quello di Damiano è ovviamente il punto finale che sottolinea che è molto specifico perché per il resto la convergenza dei due interventi era abbastanza evidente ma sulla questione antropologica dell'aggressività che sottolineava alla fine che arriva un po' come una conclusione come fosse come se Aron volessi alla fine del suo corso ricordare il punto nevralgico e ultimo di tutte le riflessioni sulla politica dell'ordine internazionale che è la fonte dell'aggressività mi sembra effettivamente come diceva Damiano che il professor Palano che non vi è dubbio che per Aron la specificità delle guerre umane è nell'elemento propriamente umano ma non è un come dire una una petizione morale da parte era un atto di fede è una una proposta esplicativa per Aron sembra impossibile spiegare lo svolgimento delle guerre lo svolgimento della conflittualità civile internazionale la dismisura del novecento in modo emblematico non prendessimo in conto se non si prende in conto l'elemento propriamente umano che paradossalmente è l'elemento più alto dell'uomo e cioè ha delle formule che sintetizzano bene questo punto nel corso in generale gli animali non discutono su chi ha la verità della dottrina non si sterminano su scala industriale quindi l'aspetto più alto dell'uomo la ricerca della legittimità la ricerca del consenso la ricerca del riconoscimento si potrebbe dire e ciò che mal compreso mal tradotto spiega anche lo svolgimento come dire la manifestazione illimitata della violenza quindi mi sembra che su quel punto la tesi di Aron non solo la tesi di Aron è abbastanza esplicita motivo per cui in pace guerra tra le nazioni si dilunga su Lawrence per mostrare come la guerra propriamente la guerra tra collettivi politici non si spiega se non attraverso motivi umani ma mi sembra anche se dovesse dire a Damiano un punto che mi sta a cuore che conosce che renderebbe altrimenti se non avessimo motivi umani all'opera nella storia non capiremo nemmeno in realtà il lato oscuro della politica non solo quello alto non solo le parole sublimi con cui spieghiamo la legittimità non solo la ragione di obbedire ma paradossalmente nemmeno il lato più oscuro della storia quindi la violenza umana e sul professor Panebianco che ringrazio ugualmente in particolare direi solo una cosa che effettivamente ha pienamente ragione l'ha detto delicatamente e generosamente che è un corso un po' mutilato se ci attenessimo a questo corso il conoscitore di Aaron potrebbe avere l'impressione che c'è qualcosa che manca che Aaron introduce lui stesso citando il corso dell'anno dopo che lo completa effettivamente potrei cavarmela dicendo che ovviamente vi sono a volte così come vi sono ragioni universitarie per chiudere un corso laddove non è concluso lasciando al pubblico e gli studenti insomma l'onere di seguirlo nel seguito ci sono anche ragioni editoriali avevamo questo corso inedito che conosco da tanti anni e che uscirà quindi fra un anno anche in Francia che mi sembrava prezioso e l'abbiamo pubblicato però abbiamo ragione al di là del insomma è il motivo per cui direi come abbiamo provato a dirlo con il professor Campi nelle introduzioni che non sostituisce questo corso la lettura completa di Aaron ma abbiamo una ragione dovresti difendere il libro per quello che ha distruttivo nella sua direi parzialità direi comunque il punto che rende Aaron particolarmente significativo nella storia del novecento e nel pensiero politico quasi misterioso come René generale ha compreso e il punto è il seguente ammettiamo che Aaron che per comprendere Aaron sia necessario studiare le regole ed è esattamente il caso ed è così per esempio se uno legge democrazia e totalitarismo che è il titolo francese democrazia e totalitarismo il titolo italiano è teoria dei regimi politici si direbbe Caroni in un corso della Sorbonne del 57-58 fa solo l'opposto cioè studia solo le regole l'opposizione tra i due regimi rispetto si potrebbe dire alla vita interna o quello che sono i loro funzionamenti interni quindi come se non ci fosse la guerra allora che qui prende sul serio il fatto che la politica è talmente sottoposta all'eccezione all'estremo alla guerra che si direbbe quasi che la politica come regole la politica come fini la politica come ricerca interna della legittimità o internazionale la legittimità non esiste ma per quello che dopo tutto è lì anche in questo corso che è anche questo corso a illustrare l'unicità di Aron perché quel pensatore politico che avendo preso sul serio l'eccezione la guerra le guerre iperboliche i mezzi estremi e le nucleare non ha mai smesso di cercare tuttavia la regola dei regimi e la regola interna all'azione è il motivo per cui obiettava in questa sorta di triangolo a Jacques Maritain per esempio o si potrebbe dire per certi versi anche Aristotele di occuparsi solo della vita buona della vita morale dell'azione buona senza considerare l'esterno così come obiettava a Schmitt di fare insomma in questo punto converge con Strauss e altri di fare dell'eccezione la verità della politica ecco Aron obiettava a Maritain di dimenticare che le eccezioni hanno ritmato il novecento e che la vita la buon regime la vita buona sono insomma sottoposte all'ombra della guerra ma obiettava allo stesso tempo a Schmitt di pensare che insomma che l'eccezione e il nemico possano determinare la scelta del regime e la regola interna all'azione in questo senso in questo corso che effettivamente è mutilato e ciò non è sfuggito per il suo pane bianco si vede quasi Aron che limitandosi ai casi di guerra e l'azione guerriera riesce a mantenere nonostante tutto nell'analisi dei mezzi nell'analisi dei fini la sua specificità di essere stato un pensatore politico che ha pensato all'ombra dell'estremo delle eccezioni le buone azioni e quindi anche la libertà grazie a Giulio Diligio è collegato e vuole intervenire Andrea Abitetto che è stato il nostro relatore quando abbiamo presentato il libro di Montesquieu che ci ricorda che stiamo finalmente tornando alla normalità per cui si può fumare la pipa in tranquillità senza chiederlo perché mi ricordo che una serata in epoca più o meno Covid c'era un relatore ma da fastidio se fumo ci mancherebbe ero io ero io l'era molto dopo era all'epoca Andrea se ti attivi l'audio ti ascoltiamo più che volentieri grazie grazie Lorenzo grazie ai relatori che hanno dato una bellissima presentazione di quest'opera di Aaron io intervengo uno per il piacere di collaborare a questa iniziativa sempre meritoria di l'audio liberale e due per formulare una domanda Aaron appartiene sicuramente alla tradizione liberale perché come tutti i liberali è un grande umanista cioè guarda l'uomo per quello che realmente è e in questa sua lezione di realismo che appunto la prima lezione di realismo è quella di considerare l'uomo per i pregi i difetti per i vizi e le virtù che lo caratterizzano e in questo è tipicamente liberale o meglio di un certo tipo di liberalismo e in quel rapporto che c'era e che ha evidenziato anche il professor Panebianco tra Hayek e Aaron dove in Hayek c'è forse un ruolo degradato della politica Aaron è un pensatore che fa dell'elogio della politica in senso ampio in senso molto alto una delle sue note credo più tipiche e la domanda che io volevo rivolgere ai relatori vista la loro autorevolezza è proprio questa il ruolo altissimo della politica in Aaron come si concilia con quella che è la giuridicità dell'esperienza umana la moralità dell'esperienza umana e soprattutto anche la sfera economica dell'esperienza umana perché secondo me nel rapporto di Aaron nella visione di Aaron rispetto a questi tre temi che caratterizzano comunque la nostra esperienza come esseri umani e nel tentativo di organizzare o di dare un senso alle nostre società questo è un tratto che secondo me in Aaron è molto forte molto caratterizzante anche perché soprattutto viviamo in un'epoca che ovviamente è successiva a quella dell'opera di Aaron in cui abbiamo visto un forte predominio o meglio una forte valorizzazione di alcune di queste sfere e una delle domande che oggi ci riponiamo noi oggi è anche nei confronti dell'ordine internazionale come giuridicizzare l'ordine internazionale come rendere l'ordine internazionale economico più confacente rispetto alle esigenze dell'esperienza umana e della vita umana ecco in questo tema secondo me il messaggio fortemente politico di Aaron ha una sua forte attualità però su questo il mio è un dubbio o meglio una domanda che volevo rivolgere tra i relatori e vi ringrazio ancora per l'eccellente opera che svolgete periodicamente grazie Andrea non so se vuole rispondere il professor Panebianco soltanto su un punto in democrazie e totalità cioè la teoria dei regimi politici il titolo italiano il punto di riferimento di Aaron e Montesquieu e quindi lì troviamo diciamo ciò che lui pensa sul rapporto tra diritto e politica però è interessante notare che sono i passaggi in cui Aaron si occupa dell'interno cioè si occupa degli assecchi interni delle democrazie dei regimi costituzionali pluralisti e quindi delle democrazie occidentali sostanzialmente se dovessi cercare altre pagine in cui Aaron tratta del rapporto con il diritto beh sì c'è certamente ovviamente il riferimento al diritto delle genti ma non non magari magari il Dicio mi può indicare qualche altro passaggio che io non ho in mente non ho non ho in mente passaggi particolarmente originali su questo di di Aaron però quello che viene sul moralismo quello che viene fuori è la delizio l'ha detto bellissimo qui le due le due i due i due nemici di Aaron qui sono il moralismo da una parte e il cinismo dall'altro lato cioè un realismo un realismo che scade il cinismo e che non e che quindi perde diventa un finto realismo perché perde in realtà il rapporto con la realtà e tra l'altro un moralismo che pretende di parlare delle società come dovrebbero essere anziché delle società come sono e Aaron non ha sempre il presidente Macchiarelli da questo punto di vista su cui è scritto tra l'altro delle pagine molto importanti però non mi spingerei più oltre su questo su questo aspetto il professor Palano vuole intervenire ok ma sentiamo Deligio forse è più esperto conosce benissimo grazie Damiano stavo per dire che rispondo volentieri tanto il punto è nevralgico ma non è non rispondo volentieri tanto il punto ci lascia nella situazione in cui siamo che stavo per dire sul punto del diritto internazionale cioè in pace e guerra tra le nazioni Ron insiste sull'imperfezione essenziale del diritto internazionale la sua formula e il primo dal punto di vista quindi la pace attraverso il diritto che appunto in questo senso dicevo che rispondo volentieri perché conosco la risposta come gli studenti agli esami ma il punto è inconcludente doloroso perché se prendete Pansela Guerri il libro su Clausewitz la conclusione di questo libro è lacerante e attuale nel senso grave del termine perché Ron chiude quel libro dicendo a coloro che mi chiedono insomma di aderire alla speranza di dire addio alle armi attraverso il diritto internazionale chiedo di dirmi chi tra le tre religioni del libro ha il diritto di governare Gerusalemme insomma è l'ultima è il paragrafo finale di Pansela Guerre parlano quindi che era un pastore francese di origine ebraica quindi come a dire il diritto internazionale non regola regola puntualmente e limita puntualmente la guerra ma sembra lasciarci di fronte alle questioni vitali nell'obbligo di trovare altre fonti di limitazione della violenza ed è la saggezza di Ron ma per coloro che tra di noi cercano risposte ultime alla storia ovviamente è una risposta parziale e per quanto riguarda il lato si può dire commerciale economico liberale sull'ordine internazionale come diceva il professor Panebianco Ron sembra trovare nel liberalismo e nei suoi elementi per esempio la società di mercato la migliore formula per il benessere interno alle nazioni invece molto poco liberale in ogni caso poco dottrinario nell'ordine internazionale la pace attraverso il commercio queste tesi sono un po' estranee a Ron ed è il motivo per cui in un testo che il professor Panebianco fece pubblicare in un'antologia che aveva introdotto il ventesimo secolo che si chiama e si intitola l'alba della storia universale c'è un po' si trova la formula che anche lì come dicevo prima è la formula lo schema interpretativo più suggestivo e più istruttivo più esigente di Ron ma che anche lì ci lascia di fronte a conclusioni da cercare noi stessi perché è la formula in cui Ron insomma pone il processo e il dramma sembra dire il novecento è il secolo dei processi dell'economia estesa che diviene planetaria dell'interdipendenza economica tecnologica dei prodigi della scienza della tecnologia e quindi in questo senso è unico come secolo in questo senso sembra insomma incoraggiare le speranze di unificazione dell'umanità ma questo è il lato del processo si può dire la pe par le commerce la pace il dolce commercio di Montesquieu di Comte l'industria pacificatrice ma Ron insiste ma anche il secolo dei drammi perbolici quindi la storia resta il teatro dell'azione umana in questo senso anche del dramma della guerra quindi per rispondere alla domanda Ron che senso dare alla politica è vero che Ron sembra intendere a volte la politica come l'interruzione dell'unificazione dell'umanità quindi il momento tragico della storia che ha scoperto in Germania negli anni 30 ma d'altro canto per altri versi sembra invece dire quasi come un aristotelico del nostro tempo la politica è anche ciò che ci resta quando governiamo quando agiamo bene per insomma rendere all'umanità il bene di cui è capace in questo mondo così com'è è lì che processo e dramma politica politica come insorgenza del tragico politica come il governo degli uomini anche lì è un'antinomia interna da Ron che lo rende molto istruttivo anche quando si può avere l'impressione che ci lascia di fronte al nostro proprio giudizio insomma grazie ci ha abituato a intervenire un giovane studioso Francesco Civili a cui diamo più che volentieri la parola a te se attivi ti ascoltiamo ciao e benvenuto grazie grazie mille sentite allora ringrazio mi accodo anch'io ai ringraziamenti e ai relatori per questa bella serata su Ramona Ron e volevo porre solo una domanda volevo chiedere al dottor Deligio ma anche agli altri relatori se in un certo senso quando Ramona Ron aveva detto prima il dottor Deligio quando Ramona Ron dice che i principi liberali rimangono astratti inesistenti se non c'è una risposta una decisione un'azione di fronte alle determinate circostanze storiche in un certo senso il suo pensiero può essere definito storicista ma non nel senso egliano nel senso tipo come quello di Schmidt di question answer cioè la storia pone la sfida e noi rispondiamo a quella sfida con un'azione una pratica e che quindi in un certo senso per a Ron la storia è ineliminabile cioè noi siamo calati nella storia e quindi si concretizza attraverso la storia ecco devo fare questa domanda grazie ancora per questa serata e grazie a Lorenzo Maggi per averla organizzata grazie Francesco professor Deligio professor Panebianco se volete rispondere anche professor Palano rispondo velocemente ma perché vorrei sentire la risposta del professor Panebianco e del professor Palano ma in due parole la formula che ho impiegato è una formula del 39 quindi un testo importante intitolato stati totalitari stati democratici che si trova nel libro tradotto in italiano Machiavelli e tiranni moderne che è considerato da molti il testo in cui Ron incomincia a rivelarsi per quello che è quindi è una conferenza che è luogo all'ombra della guerra quando ormai l'imminenza della guerra non sfugge a nessuno e Ron sembra invitare i suoi interlocutori amici filosofi progressisti a non limitarsi a dichiarare dei diritti o le superiorità delle democrazie se si è incapaci di far prova di virtù politiche insomma quindi di incarnare i principi di tradurli in azioni e decisioni quindi di essere capaci di dar vita al bene che le società democratiche liberali a suo avviso esprimono quindi non so se sia storicista o no si potrebbe dire che è la traduzione di un pensatore che postula ragione che se un principio è incapace di tradursi in azione è come molto moralismo contemporaneo una dichiarazione sublime è una pretesa di superiorità morale incapace di vita e d'altro canto se dovessi prolungare la discussione che abbiamo avuto stasera direi che a Ron in questo senso tornando alla sollecitazione che sono felice di offrire l'odi liberale è che come sapete Schmitt aveva questa obiezione forte al liberalismo nel conciutto di politico che il liberalismo contiene solo una critica della politica e non una politica quindi in questo senso Ron che non è né critico del liberalismo né dottrina del liberalismo lo è perché sembra dire un regime che pretende di essere superiore nella sua libertà è capace di governare e quindi è capace di rispondere effettivamente alle sfide storiche e in questo senso penso che si possa capire perché Ron non si atteneva ai principi ma cercava non solo una teoria dell'azione ma anche una pratica della teoria professore Parabianco professore Parano Parano lascio per ora la parola sì grazie ma una cosa molto breve sì penso che in qualche modo ci sia effettivamente questa logica della sfida e della risposta è anche una cosa forse autobiografica una scoperta della storia che non incide soltanto sulla autobiografia personale di Ron per quanto ho avuto modo di decifrare io ma incide anche su gran parte della sua riflessione ed è l'esperienza autobiografica di fatto dello scoppio della seconda guerra mondiale di una Francia occupata che è chiamata non soltanto a rispondere militarmente ma in qualche modo a chiedere anche a chiedersi qual è il proprio ruolo in quel determinato momento questo è una non è penso non penso che sia un caso che ricorra spesso che quegli eventi ricorrono spesso nelle discussioni di Aaron e penso che effettivamente questo meccanismo questa logica possa essere anche un passepartout per leggere per rileggere per comprendere la riflessione di Aaron volevo dire solo questo un passaggio importante proprio che risale agli anni trenta al suo lavoro all'altro bellissimo libro ormai tradotto che è l'introduzione alla filosofia di l'attività lì Aaron scopre ciò che in Francia non aveva scoperto cioè i limiti della conoscenza umana che hanno come contropartita i limiti dell'azione cioè l'azione necessaria noi siamo persone situate nel mondo e dobbiamo agire ma dobbiamo anche sapere che le nostre azioni sono sottoposte a vincolo e il vincolo è dato che la nostra stessa ragione è limitata e così come c'è un limite nella conoscenza storica c'è un limite che incombe sull'azione di chi agisce nella storia è interessante notare che una delle formule che Aaron usa sempre è anziché criticare cosa è semplicissimo stando seduti nella propria scrivania criticare chi prende le decisioni però prima di criticare mettetevi nei loro panni cioè cercate di capire in quale situazione si provano ad agire sulla base direbbe Simon il fatto che tutti siamo condizionati dalla razionalità limitata e dal fatto che anche le conoscenze storiche le conoscenze che gli intellettuali possono offrire agli uomini che agiscono sono segnate dal limite dal limite della ragione e dai limiti quindi delle nostre conoscenze in un modo che da un lato è incerto e in cui comunque non si può evitare di scegliere e di decidere e questo è anche uno degli elementi del dramma che Weber prima e a un gruppo hanno perfettamente individuato una delle cose di cui siamo più orgogliosi è che spesso i nostri relatori partecipano alla serata e ascoltano e poi vogliono intervenire in questo caso come il professor Berraddili ciao Paolo ti vediamo se attivi l'audio in basso a sinistra sei mutato così ti ascoltiamo più che volentieri adesso ecco no no è attivato ma non ti riusciamo a sentire purtroppo no noi lo vediamo eh no lo vediamo ma non riusciamo ad ascoltarlo è l'audio intanto che leggo per chi non sta vedendo nella chat ma Maurizio Sergio aveva chiesto di poter specificare i contorni del concetto di passiologia elaborata e il ruolo della prudenza nella genesi delle decisioni politiche magari verrà appunto lì Paolo no purtroppo mi sa che dovresti togliere secondo me le cuffie e staccare probabilmente in questo caso riusciamo a sentirti perché se no adesso perfettamente adesso ti sentiamo adesso mi ascoltate assolutamente sì no io molto brevemente intanto ringrazio i colleghi per questa bellissima serata da cui ho preso molto mi procurerà il libro è stato un grande piacere volevo fare due notazioni la prima personale allora Raimond Aron è stato all'inizio degli anni 80 un po' il viatico per contrabbandare il pensiero liberale nella Università di Genova questo grazie a Dino Cofrancesco che era un po' Vox Clamas in deserto perché quando io ero all'università nell'83 che era il secondo anno di filosofia era l'unico liberale e quindi io che invece ero marxista errori di gioventù ero direttivo dell'istituto Gramsci quando morì Aron nell'83 volevo organizzare un convegno di paragonare insomma e studiare la relazione dialettica tra Aron e Sartre ma naturalmente ciò mi venne impedito e io mi avvicinai sempre di più naturalmente al pensiero liberale quindi e poi l'anno dopo credo che il professor Mane Bianco che è un maestro di questo sia forse stato anche artefice lui stiamo parlando dell'84 vennero pubblicati i memoir da Mondadori non sono stato io credo che sia forse un'iniziativa di Ronkei forse Ronkei sia Alberto Ronkei e in qualche modo fu uno sdoganamento del pensiero liberale io poi mi sono convertito al pensiero libertario Mises Rothbard eccetera però Aron è rimasto sempre sulla mia scrivania e quindi voglio dire molto importante molto importante perché la morte di Aron in qualche modo venne ampiamente discussa e lo portò ampiamente nel dibattito anche italiano la seconda osservazione quanto è stato detto da Lorenzo Maggi si hanno tradotto quasi tutto ma non tutto ecco e siccome la discussione verteva adesso sullo storicismo c'è un bellissimo testo Dimensione della conscience historique del 1961 che è molto bello che io ho ripreso in mano studiando Mario Maglio Rossi quindi nemici dello storicismo ed è un testo fieramente antideterministico fieramente antistoricistico che ricorda per certi aspetti un pensatore abbastanza alieno da Aron come aliena abbastanza da Aron la scuola austriaca naturalmente perché si confronta con Hayek ma non con Mises che ha veramente universi molto diversi ed è un testo bellissimo un testo che viene recensito ampiamente in tutta Europa che non è mai stato tradotto in italiano che dimostra appunto l'antistoricismo perché vedeva nello storicismo e nel determinismo analizzato con strumenti diversi rispetto a quelli di Menger criticato con strumenti diversi una grande minaccia libertà individuali ecco voglio solo dire queste cose e ringraziare quel testo quel testo però direi riprende riprende per l'essenziale il suo lavoro la sua tesi dottorato del 38 la filosofia dell'antistuaro intende infatti la cita costantemente che è il testo che poi influenzerà tutta la sua la sua sociologia esattamente sì lo riprende ampiamente ecco sì però neanche quello credo che sia stato mai tradotto la filosofia del rischio no 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 sono colpo ecco ecco grazie queste due due precisazioni dicendo quanto soprattutto la prima quanto importante ma non tanto per me quanto per i giovani del tempo negli anni 80 inizio anni 80 quando si era giovani studenti è stata la figura di Aron perché era una figura di cui si parlava anche a giurisprudenza che era una scuola marxista forte Giovanni Tarello e così via e persona di estrema intelligenza Tarello ma non certo un liberale ebbene parlava ampiamente di Aron in quegli anni schiudendo a noi una dimensione che c'era abbastanza estranea perché degli austriaci non si parlava assolutamente quindi Aron era un modo un po' per portare il pensiero liberale nelle aule universitarie genovesi ma penso non solo genovesi adesso non so come fosse la situazione a Bologna eccetera ma certamente negli anni 80 era molto difficile conoscere il pensiero liberale anche se poi un liberalismo come il professor Piene Bianco che è un'autorità su questo e non solo su questo ha detto legato a una tradizione alla Toccheville non certo alla Bastia ecco per dire così quindi una tradizione realistica e forse non utopistica come si va da Bastia che è quella che è quella che poi ha abbracciato io volevo dire solo questo e ringraziarvi molto e naturalmente noi tratteniamo molto del tuo intervento confesa la confessione del marxismo giovanile che non sapevamo ma insomma avevo vent'anni avevo vent'anni non l'avevamo mai saputo quindi bene credo che Andrea Vitetto voglia intervenire quindi prego se vuoi attivare l'audio ti ascoltiamo solo una glossa perché giustamente il professor Panebianco ha parlato di prasseologia attenzione la prasseologia anche nell'opera nell'azione umana di Mises è pura consapevolezza anche della storicità dell'esperienza umana in tutte le sue manifestazioni io ricordo sempre una cosa che è importante il Popper in misera dello storicismo in cui sradica questa concezione deterministica dello storicismo fa salvo uno storicismo che non era storicismo deterministico che lui viene detto Croce che anche lui aveva avuto una forte erudizione marxista da giovane che non ha mai ripudiato completamente diceva ho imparato il senso della storia che però non era deterministica nei suoi fini nei suoi obiettivi ultimi ma era il senso della dimensione storica in Tocqueville in Aron in Montesquieu in tutti questi grandi giganti del pensiero liberale la storicità è umanità cioè l'esperienza umana che guida quindi ma non per gli obiettivi futuri ma perché ci rende consapevoli di quello che è l'eredità del nostro passato noi europei di questo siamo molto fortemente consapevoli perché noi abbiamo intimamente una profonda dimensione storica ecco a me piace ricordare questo perché anche in un pensatore che aveva le sue radici nel marxismo poi abbandonati chiaramente come croce lo storicismo crociano non è mai deterministico è senso dei fatti delle vicende del passato che ovviamente devono essere apprese per poter agire anche nel presente ma senza prefiguare dei fini nel grande individualismo meteorologico Popper Mises Aie questa dimensione c'è chiaramente ed è una dimensione che ripeto fortemente legata all'umanesimo liberale questo è un punto che secondo me è importante ricordarlo senza necessariamente abbiure da questo punto di vista ma è un tratto di consapevolezza della vicenda umana che va presa in tutto il suo complesso in tutto il suo divenire passato ecco io non ricordavo non ricordavo quel passaggio di Popper su Croce però è molto chiaro questo professore in Popper che in quel bellissimo livello salva o meglio non condanna lo storico proprio perché non deterministico sì anche perché Croce è arrivato a un certo punto a definire la filosofia la metodologia della storia sostanzialmente esatto tant'è che il mio grande maestro Valerio Zanoni mi diceva sempre io sono in realtà liberale quando ho letto la storia come pensiero e come azione è un libro meraviglioso in cui di quel determinismo non vi è traccia c'è un profondo sentimento di conoscenza di panarsi della storia e anche nella tradizione giuridica questo c'è la grande tradizione giuridica di Gorla che infatti il suo grande libro di discontinuità è l'interpretazione del diritto che è un saggio tipicamente crociano e poi c'è il commento a Tocqueville Gorla che è un grandissimo il padre della compatistica italiana riparte cioè ridetermina il suo metodo il suo metodo di analisi del pensiero giuridico proprio sulle tracce di Tocqueville ed è un libro del 48 pubblicato da Giuffré che è meraviglioso proprio in questo il sentimento di diritto soggettivo di Tocqueville analizzato soprattutto leggendo l'antico regime della rivoluzione che diceva Gorla era forse l'opera ancora più importante rispetto alla democrazia in merito di Tocqueville c'è proprio questo il sentimento di quel diritto soggettivo che non è giusto naturalistico è storico è fortemente storico abbiamo visto parlando di Montesquieu un paio di settimane fa proprio che era di liberale questo tratto di consapevolezza è fortemente marcato secondo me ripeto tipico dell'umanesimo liberale grazie siccome abbiamo ci stiamo avviando alla conclusione non sforiamo mai le 23 c'è la classica domanda quando facciamo i classici che vale sempre per i tre relatori ovvero perché un giovane un ragazzo una ragazza un ventenne oggi dovrebbe leggere questo libro di Aaron e per chi invece volesse approfondire il pensiero di Aaron un testo ulteriore di Aaron che consigliereste quindi comincerei con il professor Deligio poi il professor Palano e poi il professor Pelle Bianco perché leggerlo e cose di ulteriore per introdurre le mie brevi risposte visto che Maurizio Serio è il mio amico Serio posso la domanda vorrei comunque dire per onorare la sua ottima questione che forse è un'introduzione alla mia risposta perché la prudenza effettivamente Aaron come si vede in questo libro e in tanti altri ogni tanto arriva a evocare la virtù suprema la destra di questo mondo inferiore dice citando Burke la virtù suprema della politica per Aristotele la prudenza e forse perché precisamente quando si accetta di dover iscrivere la buona azione nella contingenza nella congiuntura storica quindi non ci si può né limitare a una certa idea schematica della lotta del potere vuota in ultima istanza né alla dichiarazione dei principi alla speranza che la storia risponderà per gli uomini prima o poi direi che si ritrova la virtù della prudenza come virtù dell'azione che è una virtù intrinsecamente etica senza essere moralistica questo volevo dire a Maurizio Serio per ringraziarlo per la sua presenza innanzitutto e per la sua domanda insomma perché reggere Ron un po' l'abbiamo detto in ogni caso stasera l'ho già evocato penso che dovessi dire due cose sinteticamente direi come si evince della situazione quasi di forse l'ho chiamata prima di diluvio ideologico in cui ci troviamo sorprendentemente forse perché anche le ideologie si sono frammentate dissolte quindi sono più pervasive direi che la passione della verità di Aaron è impressionante e opera nella sua etica intellettuale nella sua nel suo sforzo concettuale nella sua attitudine nella sua presenza pubblica nei suoi editoriali se li si legge come nei suoi libri si nota non solo direi qualcosa anche di più del rifiuto weberiano del socialismo della cattedra è proprio una passione che percorre il seguo in tutti i grandi pensatori una passione antisofistica antidemagogica che ha una sua forma propria nel modo in cui Ron era pensatore lo si vede in questo corso insegnante per esempio in questo corso prende volentieri i casi limite delle democrazie stesse per non prendere solo gli esempi dei regimi che si avversano quindi la prima cosa che direi è per la passione della verità e la pazienza lo sforzo che domanda e poi per il fatto che come abbiamo detto e come diceva il professor Panebianco questo difensore della libertà che pensava la libertà nella storia politica e questo ha molte ricadute etiche molte ricadute anche interpretative forse quando a Bologna col professor Panebianco Nicola Matteucci avevo indovinato quello che è stato un po' il mio destino un po' francese se volete la forza di Tocqueville a Ron rispetto un po' una tradizione che a voi amati più di me quella austriaca perché quella austriaca con tutta la sua forza rigorosa sembra un po' al lato della storia in una sorta di spiegazione forse rigorosa ma un po' esterna è come se Ron e Tocqueville avessero preso le prove le tensioni le opinioni della storia in cui vivevano per cercare di purificarle per cercare di ridurre la propensione umana all'ideologia e all'azione erronea ed è lì una sorta di conciliazione molto rara di desiderio e di passione per la libertà umana e di sforzo di pensiero storico e politico e quindi è così che lo difenderei così che un po' accidentalmente l'ho incontrato io ma è rimasto un dialogo profondo e istruttivo dovessi dire un libro molto difficile per il motivo che abbiamo detto direi quasi quello che ho appena pubblicato che non farà male anche a me se lo comprate un giovane d'oggi però è vero che se mi capitasse di dover dire due libri direi forse l'oppia degli intellettuali perché resta un libro molto impressionante sapendo che Aron quel libro era anche rivolto a tutti i suoi amici di gioventù e al suo mondo sociale universitario quindi aggiunge più gli anni passano più sento un'ammirazione crescente quando si capisce che Aron metteva in guardia ad errori morali e politici rovinosi il mondo in cui che frequentava Parigi i suoi amici di gioventù quindi la potenza intellettuale di quel libro mi impressiona ancora più oggi e poi forse direi gli anni scritti semplicemente l'uomo contro i tirani l'uomo contro le tirani perché sono gli scritti da Londra che sono un'altra grande come dire forse illustrazione del giudizio che incarnava perché si trova a Londra nel pieno della battaglia storica ma se leggete quegli scritti sono anche durante la guerra cosa che forse conferma quello che dicevo su questo corso anche durante la guerra ovviamente partecipa alla battaglia resistenziale ma cerca anche lì di comprendere i regimi le strategie ed è molto raro in mezzo alla battaglia lo sforzo di voler comprendere grazie professor Palano perché leggere questo libro e quale testo consiglierebbe di Ron ma dirò forse anche una banalità però Ron è un grande maestro del novecento che a differenza di quello che ci capita oggi per tanti pensatori io non ho certo avuto mai modo di incontrare e questo libro che è la trascrizione di un corso dà la possibilità in qualche modo di diventare studenti di Ron e di seguirlo anche come docente con una capacità anche affabulatoria in molti casi di condurre il proprio pubblico che è sicuramente molto affascinante questo è sicuramente un valore aggiunto di questo testo che va al di là anche dei contenuti stessi e dei limiti in qualche modo che un libro di questo genere ha nel momento in cui trascrive un corso che come tutti i corsi ha spesso delle sequenze un po' interrotte delle lacune e così via e per quanto riguarda un testo da consigliare visto che penso che Ron sia stato anche un grande conoscitore del pensiero sociale politico del 7 dell'ottocento penso che per un giovane sia o comunque rimanga un testo molto utile molto valido quel testo che in italiano è pubblicato l'etappe del pensiero sociologico in cui sicuramente si trovano non soltanto i riferimenti alcuni dei riferimenti teorici di Ron ma sicuramente alcuni dei pilastri di cui chiunque voglia studiare la politica e la società non può fare a meno di conoscere grazie professore padre bianco a lei io sono totalmente d'accordo con le cose dette da Ligio da Parano aggiungerei questo un giovane trova in un'epoca di confusione del linguaggio un autore che chiarisce i concetti e li espone e insegna come vanno trattati i concetti se ci si vuole occupare delle cose dei fatti della storia e della società sono pochi autori che hanno questa capacità e Ron è uno di questi quindi aggiungerei senza altro alle cose dette da Parano e da Ligio anche questa e anch'io avrei indicato le tappe del pensiero sociologico perché in realtà io ma non a un lettore italiano indicherei due testi che non sono mai stati tradotti il primo che ha scritto la sua introduzione quella della tisi di dottorato del 38 e Pansela Gher di Klaus la prima opera e l'ultima importante però ovviamente e quindi non è pratico indicare meglio indicare i testi italiani testi in italiano che è più facile di reperire e probabilmente le tappe del pensiero sociologico e l'opio degli intellettuali forse sono le opere che conviene vedere per reperire grazie prima di arrivare ai saluti vi diciamo che cosa facciamo settimana prossima quando torneremo in presenza perché settimana prossima presenteremo il libro quindi se volete venire direttamente a Lodi cambiamo completamente ma anche se è un filo conduttore c'è sempre il furto del millennio come la Cina turlupinata e depredato l'occidente volume in cui uno dei coautori sarà con noi cioè Fabio Scacciavillani ci sarà anche Alberto Forchielli e Andrea Gilli che appunto insegna alla scuola della Nato quindi credo che alternare l'attualità e i classici possa sempre essere utile ringraziamo per le incursioni il professor Bernardini Francesco Civili Andrea Bitetto e la gentilezza la competenza la passione con cui ci hanno accompagnato questa sera al professor Adeligio al professor Palano e al professor Bale Bianco buona notte a tutti buonanotte buonanotte arrivederci grazie a tutti